Ciao ragazzi ed eccoci qua ritornati carichissimi so find you e ragazzi oggi siamo arrivati all'ultimo anzi no scusate al penultimo episodio di questa serie ragazzi ci siamo e ci stiamo avvicinando alla fine proprio di questa serie oggi faremo dal livello 91 al livello 95 e come ultimo episodio dal 95 al 100 quindi ragazzi arriviamo oggi fino al 95 ebbene ragazzi quindi possiamo partire direttamente con il livello 91 mmm interessante sembrano le campane della chiesa di super mario odisei tra l'altro il video è uscito proprio tre giorni fa quindi andatelo a vedere eeeh si eravamo rimasti proprio qui eeeh no cosa oddio no 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 come come se lo faccio all'incontrario no c'ero perché perché ragazzi perché mi devo fare ste robe ah einem no 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 ma che mira ragazzi li ci voleva per forza la mira lì per forza la mira ci doveva vede altrimenti potevamo andare proprio avanti eh andavamo fino proprio a fine video cioè ragazzi lì ci potrei combattere quanto ci pare Però ci dovevi avere la mira Porca puttana Sono stato fortunato Qui E' veramente interessante Wow Wow Certo che Sta musica Non cap- Ho capito Ah ok perfetto Devo solo coordinare i tempi Eh coordinare i tempi Ok Devo essere pure veloce Allora No Oddio Mi sto confondendo un po' Oddio raga Mi sto confondendo No E' troppo Tocca di fare Tutto Ah Potevo arrivarci Direttamente Aspettate ragazzi Ok No Eh ma Ma come fa Perché Perché lì Non c'è un coso sopra Che mi sostiene Vabbè Che bastardata Sviluppatore di merda Se vi pio Ah Non ci arrivo Non ci arrivo Una cosa incredibile Ragazzi Non ci arrivo Ah Devo essere veloce Porca puttana Non ci riesco Ok ragazzi Ci siamo Mi serve una musica Rafforzativa Sì Sì Proprio questa Quindi ragazzi Andiamo Grazie Ok 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 No ma Che grande Che grande Con questa musica Che grande Vedete ragazzi Se vede la musica di prima Mi portava sfortuna Quindi ragazzi Direi di continuare Con questa musica Allora Questo scatolone Lo dobbiamo portare Giù Giusto? Si tocca arrivare da quello Ok Mi sembra però Che è un'impresa Difficile però eh Ok Ci siamo Ma Il problema È come cazzo Andiamo dall'altra parte È questo il problema ragazzi Non è che mi sto inventando cose Allora Devo studiarmi Un po' Di cose Allora Se noi saltiamo Ok Tocca fare tipo così Allora Ci siamo No Ok Sì Sì ragazzi Ce l'ho fatta Tutto a merito Di questa musica Mamma mia Mamma mia Che ho messo Mamma mia Che livellaccio Veramente ragazzi Che coordinazione Allora Adesso siamo in un altro livello Siamo al livello 93 Ok Ho bisogno di capire Non posso saltare Quindi Che cazzo Di livello Casomai Non sto capendo Ragazzi Giuro Non sto capendo Non sto capendo Perché non mi va Avanti Avanti Ok Allora Qua Direi di andare Al checkpoint Ok Preso Adesso Sopra Sopra Ma Rimane Difficile Andando Qua Giusto Eh Deve per forza Possiamo dire In un certo modo Uh Cade Giusto Cade Allora Mmm Cosa No Infatti Non so Se è stato Un errore mio O dove No O dovevamo fare così Oppure No Mmm Interessante Ragazzi Eh Interessante Ah Fregato Livello Di merda Ho fregato Il gioco Ho fregato Il gioco Ma io ci godo Ragazzi Io ci godo Non so se era Quella la soluzione Ma siamo passati Proprio Da sopra Forse Non dovevamo Passare da lì Boh Non lo so Comunque E' importante Che l'abbiamo fatto Questo Livello Ora siamo A livello 94 Già Abbiamo fatto Il fail Ecco Un altro fail Per carità Ehm Il senso No Il senso Veramente Il senso Di questo livello E' farti Incazzare Che livello Che livello Di merda Ok Devo fare Tipo così Però Zompa Troppo E non riesce Ad andare Giù Io Più Veloce Di così Ah Eccoci qua Ragazzi Ci voleva Tanto No Non ci voleva Tanto Era veramente Una cazzata Dovevo essere Proprio Un superman Possiamo dire Allora Ultimo livello Per noi Di oggi Eh Diciamo Che E' interessante Questo livello E' E' interessante E sinceramente Rimane pure Difficile No? Giusto? Giusto Allora Il mio istinto Dice che Dovremmo Andare Su quella Chiave Verde Però Ragazzi È strano È Decisamente Strano Ok Checkpoint Rimane Logicamente Difficile Stavo dicendo Qua Mi servirebbe Un blocco Allora Mi serve Assolutamente La Concentrazione Ok Allora Tocca fare Tipo così E poi Tocca fare Velocemente Ok Tipo Allora Mi sto aiutando Con due mani In realtà Va fatto con una mano Ok Eh Ok Un cazzo Allora Passiamo per di qua Uh Uh Fregato Gioco Eh Allora Non so se ho fatto bene A prendere quella chiave Sinceramente Ok Ah Perfetto Lui Abbiamo Ah Bastardo Bastardo Ragazzi Questo è Bastardo Allora No In teoria Non è Bastardo Perché Finito Finito Ragazzi Basta Va Concludiamo così Questo video Ragazzi Può Bastare così Questo penultimo Video Di questa Serie Ebbene Ragazzi Questo video Può finire così Mamma mia L'ultimo livello Pensavo che Era Veramente impossibile Invece Ce l'abbiamo fatta Comunque ragazzi Lasciate like Se vi è piaciuto E chi non è iscritto Iscrivetevi subito Mi raccomando Il prossimo video Di find you Ricordo Che Sarà Dal livello 96 Al 100 Quindi Sarà L'ultimo Episodio Quindi Supportiamolo Al massimo Questo video I social Sono qua sotto In descrizione Instagram Lollo02thebest E Telegram Chiocciola Lollo02thebest Io vi saluto E Ciao 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 Grazie a tutti.